siamo a napoli centrale andiamo da cerra a casa dei notari per disegnare fare animazione insieme a simone stiamo finendo questa animazione adesso simone l'ho incontrato la prima volta penso aprile aprile ad ultra blu e già da subito ho riscontrato che sensibilità artistica avesse simone cioè rappresentato con questo libro sui lupi bellissimo insieme al padre gianfranco e niente dopo un po mi hanno proposto questa cosa di scendere una volta a settimana a napoli per insegnare a simone a diventare indipendente con tavoletta grafica e photoshop e così sto facendo ormai da tre quattro mesi quindi portare quello che è ultra blu a napoli sono giacomo guarda come sono fatti i cacciatori di lupi questi sono i cacciatori di lupi perché con simone stiamo facendo un animazione sulla spopolazione dei lupi quindi per colpa dei cacciatori che hanno ucciso tutti i lupi adesso le foreste non sono più foreste perché è un peccato perché è un peccato ma noi salveremo l'ambiente e noi salveremo l'ambiente giusto i lupi eccoli qua i lupi questo è il cacciatore che hai disegnato guarda simu questo è il cacciatore che hai disegnato vuoi che te lo prendiamo qua la così lo finisci certamente ok premi la solo annulla ti invio solo il nero eh lo ricoloriamo dall'inizio file nuovo prendiamo no aspetta aspetta film video vai su film video è qui film video queste sono le cartelle vai su film video e mettiamo un no aspetta spai che non diamo e lo giri vedi mojic ti ha messi i quadrati se tu lo prendi dall'angolo e fai così si gira 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 io rinfociolirei un bel po' un attimo soltanto aspetta che è che è io gli ho fatto un bel paio di baffi a sto cacciatore che dici scusi giacomo dica simone qui di che colore di che colore cosa qui dentro eh quelli sono dentro dei bottoni no è questo no di che colore è questo di solito delle giacche è più scuro della giacca perché è una zona tonda di questo marrone qua e lo scurisci e scuriscilo mi sapeva l'uso di ora si regge un po' meglio e qua che facciamo? lupe però li giriamo, non li facciamo così allora questa pianta questa roccia che fa così mandameli per piacere eccoli, ce l'hai sull'iMac dove? iniziamo dal primo lupe su, questo qua facciamolo arrabbiato arrabbiato? e beh stanno uccidendo quindi si ammazza ma è bello questo, madonna santa che figo che bello sto libro Simo, chi te l'ha regalato? il mio papà madonna che libro bello no 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 dobbiamo fare una cosa allora dobbiamo dire I'm part of a pack I'm part of a pack I'm part of a pack eh è esagerato ora I'm part of a pack I'm part of a pack un po' altro come se stessi parlando normale I'm part of a pack I'm part of a pack bene e poi dobbiamo dire my pack my pack my pack my pack ah no my pack di solo my pack my pack my pack perfetto basta così abbiamo finito cambia colore fallo un po' più chiaro però ti insegno una cosa vedi che sembra già più lontano però fallo ancora più chiaro non lo fare dello stesso colore della roccia perchè lui sta dietro la roccia d'accordo lo vedi sembra che sta dietro la roccia così ok 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 è il disegno di un cacciatore con i tre lupi come lo useremo questo questo disegno non lo so ancora non lo sai ancora? vedremo che cosa farci io pensavo di metterlo all'inizio di questa animazione che abbiamo preparato d'accordo guardate queste cuffiette guardate che abbiamo creato insieme wow salve uomini sono il vostro amico lupo sono qui per parlarvi di come stanno i lupi faccio parte di un branco che viene dal canada e va verso sud a noi piacerebbe vivere qui in colorado con voi come i nostri antenoti facevano tanto tempo fa il mio branco si nutre di grandi erbivori come cervi e cinghiali noi non siamo cattivi e siamo preziosi per l'ambiente se noi lupi scomparissimo queste creature erbivore mangiano tutti i giovani alberi fino a far scomparire i boschi aiutateci a tornare in colorado come andiamo come andiamo come andiamo come andiamo come andiamo come andiamo come andiamo